Le dimissioni annunciate dal Premier Mario Monti, come previsto, spaventano i mercati e lo spread riprende a salire. Lo stesso Monti però tranquillizza tutti, dichiarandosi fiducioso per il futuro, affermando che le elezioni daranno all'Italia un governo responsabile. Non bisogna drammatizzare le reazioni dei mercati, continua il Presidente nella sua conferenza stampa tenuta ad Oslo alla premiazione del Premio Nobel all'Unione Europea. Sono molto fiducioso sul fatto che le elezioni italiane, quando si svolgeranno, qualunque governo daranno all'Italia, sarà altamente responsabile. La cancelliera tedesca Angela Merkel, tramite il suo portavoce, fa sapere che ha sempre lavorato bene con il Premier italiano e che quello che la lega a lui è un rapporto di sincera stima. I timori delle reazioni negative dei mercati, causati dall'incertezza politica, si sono materializzati all'apertura delle contrattazioni con lo spread tra i BTP italiani e Bund tedeschi, che chiude a 351 punti base, dopo aver superato quota 360 punti nel corso della seduta. I dubbi su quella che potrebbe essere una instabilità politica dei paesi come l'Italia hanno effetto immediato anche sul debito della Spagna. E' quanto afferma il Ministro spagnolo dell'Economia, Luis de Guindos, che continua dicendo Quando sorgono i dubbi sulla stabilità di un paese vicino come l'Italia, che a sua volta è percepito come vulnerabile, ci contagiano subito. L'aiuto di cui ha bisogno la Spagna è che siano eliminate le incertezze sul futuro dell'euro. Questo è l'aiuto principale. Le eliminazioni dei dubbi sulla irreversibilità dell'euro, ha concluso il Ministro dell'Economia, renderebbe molto più facile il finanziamento della Spagna sui mercati. Monti comunque è attivo. Queste le dichiarazioni del premio francese François Hollande, che prosegue affermando Non so quale ruolo sceglierà, ma l'ho visto piuttosto attivo. Tutt'altro che in disarmo. Salve a tutti e bentrovati con l'informazione di Unica Channel. Si rifornivano di droga a Napoli e a Foggia per poi rivenderla davanti alle scuole di Ariano Irpino. Sono stati tratti in arresto dai carabinieri della locale compagnia i due giovani spacciatori arianesi di 22 anni. I due giovani, finiti agli arresti domiciliari, acquistavano cocaina a Napoli e a Ciscia a Foggia ed era loro abitudine portare la droga sino a casa ai propri clienti. Durante le indagini sono state sequestrate varie dose di sostanze stupefacenti. Da una elaborazione della col diretti dei dati Istat relativi al reddito e condizioni di vita emerge che in 12 mesi è raddoppiato il numero di italiani che non possono permettersi un pasto completo adeguato almeno ogni due giorni. Sono saliti a 6,2 milioni gli italiani che vanno ben oltre il rischio di povertà e non hanno denaro a sufficienza neanche per alimentarsi adeguatamente. E la situazione tende a peggiorare tra i pensionati. Dall'analisi emerge ancora che più di una famiglia su tre dichiara di aver diminuito la quantità e la qualità dei prodotti alimentari acquistati rispetto all'anno precedente. E chiudiamo con lo sport. Nella serata di ieri si è chiusa la sedicesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Di Natale illumina Marassi e l'Udinese batte per due reti a zero la Sampdoria di Ciro Ferraria. La Lazio invece viene fermata in casa dal Bologna sul risultato di 0-0. Pareggio giusto, dice il tecnico Pektuovic, la Lazio è stata troppo prudente. Grazie a tutti per l'attenzione. Un cordiale buongiorno. Grazie a tutti.